Ancora sangue sulle strade, teatro della tragedia questa volta la variante che collega Cervinara a San Martino Valle Caudina. A perdere la vita, Yolanda Lapietra, 72enne di San Martino, che stava percorrendo a piedi il tratto di strada. L'impatto fatale è avvenuto a non molta distanza dall'abitazione in cui la donna viveva. Yolanda era vedova da qualche anno e madre di tre figli, di cui una deceduta a causa di un infarto. Il genero Quirino Buongiovanni, presidente della locale squadra di calcio e molto conosciuto e stimato in paese. Era stato proprio lui a perdere la moglie in giovane età. Yolanda Lapietra era solita percorrere a piedi l'arteria della Valle Caudina, ma ieri sera le condizioni climatiche non erano delle migliori. Complice il buio, la pioggia battente e l'asfalto viscido, una Fiat Punto di colore grigio ha sbandato, finendo per investire la 72enne. A bordo della vettura un uomo di Cervinara, che si è immediatamente fermato per allertare i soccorsi. Per l'anziana non c'è stato nulla da fare, è deceduta sul colpo. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarla. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi del caso. La vettura è stata posta sotto sequestro.